...più. Alberto! Vieni! Stringi questa mano. Amico mio, perdonami, ti ho offeso. Ma il male che ti ho fatto, tu puoi assolverlo, gentiluomo qual sei. Tutti i presenti sanno, tu con loro, tutti voi sapete il triste smarrimento di cui soffro. Quello che ho fatto contro di te, qui lo proclamo, fu pazzia. Fu forse Amleto a offendere la Erte, Amleto mai. Se Amleto non è in sé, se fuori di sé offende la Erte, non è Amleto che agisce. Io lo rinnego a agire la pazzia e se è così, Amleto è dalla parte di coloro che hanno subito un torto, come te.